Qualcosa come 49 comuni per 300.000 abitanti nell'area tra Legnano, Magente e Bietegrasso. La nascita dell'ambito territoriale UIL da queste parti non è stata una scelta casuale. Un territorio che dalla sua passata vocazione industriale mano a mano è diventato un'area con una forte presenza di piccole e medie imprese, tanti servizi ed edilizia. Senza dimenticare che ci troviamo nell'Alto Milanese, tra la grande città metropolitana e Malpensa, con tutto quello che ne consegue. Oggi la sede di Legnano in via Quintino Sella è aperta tutti i giorni in modo organizzato. La UIL ha deciso di investire, fare investimento su questo territorio per cercare di diventare ancora di più un riferimento per i lavoratori e soprattutto dare servizi ai nostri iscritti. Ed è così che nell'ultimo trimestre del 2023 ho iniziato la mia attività di coordinatore presso questo territorio. I primi obiettivi lanciati all'inaugurazione dell'ambito territoriale sono stati i servizi e assistenza a costanti lavoratori. La novità del 2024 è che il livello confederale, attraverso la mia elezione, farà un coordinamento di tutte le categorie e l'intento è quello di ampliare la presenza della UIL nel territorio. Un percorso per coinvolgere tutte le categorie territoriali, mentre già le iniziative confederali hanno visto la UIL locale più presente. E intanto i primi risultati sono già arrivati, come il protocollo siglato con Confindustria per sviluppare il tema della sicurezza sul lavoro. E non si tratta solo di una firma formale. Perché già sono iniziate le riunioni operative per mettere in cantiere iniziative che siano conseguenti agli obiettivi concordati nel protocollo. Il primo, importante, è quello di andare nelle scuole per cercare di far emergere in questi studenti anche la cultura del rispetto delle regole. Gli obiettivi? Essere una parte importante della vita dei lavoratori del territorio, a stretto contatto con i loro problemi. Mi aspetto un 2024 importante in cui segneremo nel territorio la nostra presenza, perché vogliamo veramente che in questo territorio la UIL diventi un riferimento per tutti, per i nostri iscritti, ma in generale per tutti i lavoratori.